Il conflitto ad ogni livello, perché il conflitto ce lo portiamo dentro, i problemi nascono quando lo neghiamo, non quando lo accogliamo e ci attrezziamo per viverci e trasformarlo creativamente. Rondine, cittadella della pace, ha aperto le sue porte a Utopic Fest, la tre giorni dal respiro internazionale organizzata dall'associazione. Rondine in generale è un dialogo tra le confessioni, tra le culture, le lingue e qui la lingua italiana diventa una lingua franca per tutti e la cultura italiana diventa una cultura franca per tutti, quindi Rondine è un dialogo di per sé. Costruire una nuova coscienza del cittadino del terzo millennio e la sfida da raccolta è rilanciata a tutti i numerosi ospiti che faranno tappa a Rondine per il festival internazionale e che lasceranno il loro contributo per la trasformazione di questa utopia coltivata da anni e dallo studentato in realtà. Rondine ha immesso in quei popoli persone capaci di stare dentro i conflitti e portare elementi di costruzione di pace. In questi giorni vediamo che il futuro è veramente promettente. Diplomazia popolare, dialogo interculturale ed interreligioso ma anche alimentazione e sport, queste alcune delle tematiche al centro dei dibattiti, di quali ovviamente saranno protagonisti giovani le cosiddette rondinelle e rondini dello studentato internazionale. Un giorno bellissimo anche, noi facciamo una corsa non competitiva, un utopic family run e questa è una parte della vita di Rondine e quindi formazione, la parte teorica anche, facciamo lo sport, questa è la vita di Rondine. Pensiamo che un cittadino del terzo millennio debba essere responsabile, consapevole sul fatto mafioso, sulla legalità ma soprattutto che la legalità sta anche nelle piccole cose, saper riconoscere anche nelle piccole cose ciò che è giusto e ciò che non è giusto fare. Per l'occasione sono tornate a Rondine anche 160 rondini d'oro.